Ok, e qui abbiamo la prima spell leggendaria, poi tra le altre cose dell'espansione delle Outland, riservata al Demon Hunter. Questa cosa che vuol dire? Che ci saranno altre spell leggendarie per tutte le altre classi? Non lo so. Fatto sta comunque che vedendo una spell leggendaria uno è il dubbio se lo potrebbe porre. C'è una spell leggendaria per il Demon Hunter, questo vuol dire che anche il Mage avrà una spell leggendaria? Non lo so, c'è nel senso, lo so, vi lascio il dubbio ovviamente, no? Poi, sta nella logica delle persone capire se questa cosa può essere o meno vera, anche in base alle espansioni passate. Scambia il tuo potere eroe e infligge 5 danni dopo il tuo scambio nuovamente, quindi vuol dire che a 5 mana tu, a meno che questa carta non viene pescata e quindi debaffata, per esempio con il teschio di Gul'dan potresti pescarla e ti costerebbe solo 2 mana, però di base è una 5 mana che rende il tuo hero power sempre a 1 mana in grado di bersagliare qualcosa facendone 5 danni. E' molto importante dire effettivamente che i 5 danni li puoi fare anche all'eroe nemico, che sarà probabilmente l'abuso più importante di questa carta. Non so se questa carta dovrà gioco evidentemente, comunque le ragazze hanno 5 mana. Se vogliamo essere ignoranti e banali sarebbe una Pilosfera a 7 mana, no? E quindi temberebbe piuttosto worth. Il fatto è questo, in che mazzo la stai giocando questa carta? La stai giocando in un mazzo aggressivo? In un mazzo aggressivo giocare questa carta a 5 mana vuol dire che tu comunque a 6 mana sarai in grado di fare 5 danni a quello che ti pare, però poi al turno dopo, è lì che guadagni il tempo, al turno dopo a solo 1 mana tu puoi fare 5 danni. Quindi è una carta che in 2 turni effettivamente vale il suo posto in mana. Non so se potrebbe essere una carta considerabile come una trentesima carta di un mazzo già bello e pronto perché ha delle carte più forti, oppure una spell che addirittura si potrebbe girare di main. Io quando ho giocato il Demon Hunter questa carta l'ho giocata, poi l'ho tolta, perché in alcuni spot era praticamente inutile fare così tanti anni di avversario perché avevi altri modi per farli, semplicemente con carte che secondo me erano più forti. A me sta carta non mi fa impazzire, però effettivamente è una carta vista così, è una carta forte, nel senso 5 mana, poi 1 mana fai 5 danni, il turno dopo 1 mana fai 5 danni, è una carta che si presta bene sia a risolvere minacce, sia a fare 10 danni di 2 turni all'avversario, che tanto. Metti che stai giocando contro una classe che non è andato di curarsi, 10 danni possono spostare la partita. Mattia come si comporta il Demon Hunter contro una classe che mette tante provocazioni come il Warrior e il Druid? Spartan questa domanda è perfetta. Questa domanda è perfetta Spartan, cioè è esattamente la domanda che ho fatto io, tante cose. La differenza però Spartan è che io non posso rispondere a questa domanda perché conosco le carte che usciranno e quindi magari carte che potrebbe... Ah, ti ricordo una cosa Spartan, ci sta una carta umana con outcast che silenzia un pezzo e ti fa pescare una carta se effettivamente hai outcast. Quindi già quella carta a umana, se vogliamo ricordare anche lo spell, l'air shock dello shaman, è una carta umana in grado di spaccare un taunt, cioè spacca il taunt. La domanda è però se giochi contro una classe come, che cazzo ne so, il Quest Druid, no? In grado di fare, che ne so, spell a 6, 12 il 6-6 con taunt, più mette il 3-5 con taunt, magari ne mette un altro, magari ne mette un altro col flup. Allora, in quel caso, tu ti trovi contro una board che ha troppi taunt e visto e considerato che tu hai la forza nello swingare con la faccia, probabilmente, anzi, necessariamente tu devi andare addosso ai taunt. È vero che la classe è in grado di curarsi il demon hunter, però si cura in un gap di tempo bello diluito, non è che si cura subito il demon hunter, ha bisogno di attaccare per curarsi. Se tu attacchi taunt, ovviamente non ti stai, ti curi, però effettivamente ti prendi i propri danni. Vedremo, con le carte che usciranno, se ci sono anche delle carte che sono in grado di andare a mitigare la forza che hanno i taunt, perché per una classe aggressiva di questo tipo il taunt è un problema. Ed è un problema, è un problema sempre, però magari usciranno delle carte che riescono addirittura a risolvere questo tipo di problema. Spero di poter riprendere il discorso appena uscirà una carta, che poi, tra le altre cose, se ieri mi avete seguito, è una carta che io stavo aspettando, perché volevo farvela vedere. Volevo vedere cosa ne pensavate voi, perché io ho pensato una cosa, ho anche fatto una domanda in base a questa carta, e mi è stata una risposta che non si è ben capita. Nel senso, come per dire che nemmeno loro sono convinti di questa carta, se vada bene o meno. O non l'hai capito te. No, no, io la carta l'ho capita benissimo. Non credo, caro, che il demon hunter ucciderà la classe hunter, perché sono due classi diverse. Sai quello che ammazzerà l'hunter, secondo me? Visto e considerato che io sono amante dell'hunter, e attualmente sto giocando molto il quest hunter, io credo che il passaggio di Leroy non lo fame, e lo dico tranquillamente, manda completamente a fanculo il quest hunter. Cioè, secondo me, con Leroy non lo fame il quest hunter non resisterà più. Gioco quest hunter, più del 70% delle volte, qual è la chiusura? Leroy all'isne ha un hero power. Senza più Leroy, che era in grado non solo di fare 8 danni con l'hero power, ma quello di generare due pezzi, che davano un bust gratuito di 6 danni con i cosi, con i cani. Senza questa combo, il quest hunter è un mazzo che non ha più una chiusura del tipo OTK. A me spiace, ma credo che il quest hunter sia morto. Per quanto invece riguarda le lander hunter, piuttosto che il dragon hunter, continuano ad esserci, ed è comunque, secondo me, un archetipo. ben diverso da quello che è quello del demon hunter. È bella questa cosa che ha fatto la blizzard, cioè quella proprio di osare e di buttarsi per la prima volta a capofitto su una cosa nuova. Io quando penso alla blizzard, penso a una casa, un'azienda molto, 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 molto forte, cioè nel senso comunque è una bella azienda, che però faceva sempre il suo, no? Dava il contentino, faceva sempre le stesse cose e non rischiava mai. Io quando penso alla blizzard, a differenza della riot, penso a questo. Finalmente ha fatto una cosa in cui si mette in gioco e ha rischiato facendo una classe nuova. Se le cose andranno bene, secondo me, potremmo vedere una nuova classe anche nel breve periodo. Satiro inibito, ok, questo è il druido, ok, ci saranno tutte le altre classi, o perlomeno di tutte le carte che ho avuto il piacere di vedere. Non le ho analizzate le classi, perché non ci ho avuto tempo, quindi le ho solamente... A parte il fatto che le carte, avendole già viste, per fortuna, le posso dire le conosco. Però per esempio il druido in America io non l'ho giocato, e quindi io il satiro non l'ho mai giocato. Tremana 3-3, dormiente, per due turni, quando si sveglia, riduce di 5 il costo di un servidore casuale nella tua mano. Ok? Interessante questa cosa che questo Tremana 3-3 è un demone. Io credo che il druido non ha mai avuto demoni. Non voglio sbagliarmi, ma... Ecco, vedi, quando si parlava ieri del pool di Galakron, del coso, del lock, entrano dei demoni effettivamente che potrebbero anche non essere efficienti per quel turno. Dire che dopo due turni si va a ridurre di 5 il costo di un servidore nella tua mano, implica il fatto, secondo me, che si sta comunque giocando un servidore, eh. Se fosse stata una carta sarebbe... Un servidore vuol dire che si sta giocando, e si sta giocando questa carta se si gioca di main, in modo da poter ottimizzare effettivamente il suo valore. Quindi, essenzialmente, si sta giocando una classe probabilmente big, anche perché attualmente il big druid è una realtà, no? Il big druid si gioca, quindi il satiro potrebbe trovare valore. Ora, quando si parla di cheat in mana così importanti, si pensa sempre poi agli OTK con Malikos, no? Non so, cioè, onestamente sì, esiste l'idea, cioè, potrebbe essere una cosa del genere. Andare a ridurre di 5 il costo di Malikos tendenzialmente renderebbe giocabile la carta a quanto? A 4 mana. Quindi in grado di farci comunque una swipe, no? Il problema è che la carta, regà, stalla su board per due turni. E in questi due turni, questo mazzo come lo stiamo facendo? Solamente con Malikos e i due satiri? Probabilmente ci sarà pure il flup? Sì. Quindi, o si gioca un mazzo OTK con pochi servitori, oppure si gioca un mazzo big. Giocando un mazzo big è quindi fatto di servitori giganti, come per esempio il 6-8 con taunt, piuttosto che magari se si gioca il big dragon druid, si giocherà anche il 5-3 con razza, piuttosto che il surger. Abbiamo giocato anche biggan, quindi avendo giocato in biggan, probabilmente i servitori costaranno ancora di più. E quindi fondamentalmente tutto quello che sconti va bene. A meno che non sconti un feridre icon. Eh, il flup ruota, perfetto. Ok, quindi il flup non lo giocate. Eh, quindi, ok, probabilmente allora l'OTK con Malikos non esiste più. Io non mi ricorderò mai le carte che ruotano, quindi quando dico una carta che ruota, bravo a dirmelo perché non vi ricordo. Io mi ricordo che ruota Zilliax e Tagliotto. Bisogna semplicemente vedere se questa cosa è forte. Se la giochi nel turno 3, tu al turno 5, andando a scontare un pezzo dei 5 mana, sarai in grado di giocare sicuramente un pezzo al turno 5 molto forte. Ok? Molto più forte di quello che effettivamente è. E sta cosa è figa. Però, purtroppo, questa cosa è randomica perché dipende, prima di tutto, in quei due turni quello che peschi. Perché, per esempio, il satiro potrebbe anche andare a debuffare eventualmente un secondo satiro. Magari tu topecchi il satiro e il satiro debuffa il satiro. E in quel caso tu non stai facendo un buon turno. In tutti gli altri casi, potresti addirittura giocare il satiro di turno 3, difficilmente però, e non trovare pezzo nei prossimi due turni. Non lo so, è difficile. Io non... sono un po' incerto sull'utilizzo di questa carta qua. Un po' così, un po' schivo anche. Perché credo che il big druid ha già ramp e debuffa sufficiente per essere giocato. Il satiro, secondo me, potrebbe essere un altro slot in questo mazzo che forse potrebbe essere sostituibile da altro. Poi bisogna avere anche... C'è la prima della pescata, comunque. Le altre classi. Due mana, fortuna, fungina, pesca tre carte, scarte servitori pescati. Onestamente, questa, ragazzi, è una carta che si avvicina praticamente in toto a quella che è Book of Spectre per il mage. E... sono bastardi. Perché sono bastardi, ragazzi? Sono bastardi perché il mage praticamente è un mazzo che predilige le spell ai servitori. E quindi che ti dice Book of Spectre? Scarta le spell pescate. Al contrario, invece, il druid, essendo una versione probabilmente big, è una classe che predilige i minano rispetto alle spell. E infatti ti fa scartare i servitori pescati. Quindi, se non ti fa scartare il nourish, però ti fa scartare il 6-8 con taunt. E... è evidente, però, che una carta a due mana che ti fa pescare tre è forte. È del tutto uguale a Book of Spectre. Book of Spectre si gioca... si gioca. Si gioca solamente, però, nel mazzo Highlander. Non ti permetteresti mai di giocare Book of Spectre in un mazzo... eh... fatto dall'elementale, lì. Come si chiama? Il... Il tempo mage, insomma. Dai, che c'è il 2-2 elementale che ti dà pezzi, che ti dà spell per ogni spell giocata. Ti ricordi, no? Quella roba là. Quindi non ti permetteresti mai di farlo, perché... Se giochi la spell a due nel mazzo tempo mage, il mana cyclone, che è un mazzo formato dal 80% di spell, se giochi Book of Spectre è molto probabile che tu scarti le spell. Se lo giochi, invece, nell'Undermage, c'è una sorta di 50-50 di pescare una spell o un servitore. Nel druido? Druido c'è sta Wild Grow, c'è sta Nourish, c'è sta Swipe, c'è sta Innervate, sì. Però se stai giocando un mazzo big, ci saranno sicuramente tanti pezzi. E se tu mi vai a scartare dei pezzi chiavi per quel mazzo, come il 6-8 con Taunt, per esempio, no? Quello in bersagliabile, a Spellino Power, stai facendo un danno importante. Nell'Eylander Mage ti va male, al massimo se scarti la spell a 7, ovviamente, potrebbe essere disastrosa, o la spell a 8. Poi, oh, ragazzi, se scartate una Frost Nova o una Ray of Frost, alla fine non mi interessa, perché comunque volete pescare o volete far girare il mazzo. La carta di per sé è forte, 2 mana pesco 3 è forte, bisogna capire un attimo quale potrebbe essere il mazzo che effettivamente può avere questa carta nel suo archetipo, no? Un bel mali druida. Sì, pensa se scarti mali, però che problema potrebbe essere. Però sì, in teoria questa carta trova il massimo valore in un mazzo in cui ci sono più spell che servitori, ovviamente, no? Token, tipo? Token. Token. Sì. È esattamente l'unico mazzo in cui, appena l'ho letta, appena l'ho vista, ho visto questa carta. Bravo, Henry. Infatti, secondo me, questa carta è perfetta per un token. No, l'ha detto Ludovico. Vabbè, bravo Ludovico. È perfetta per un token, perché il token ha una stragrande maggioranza di spell, quindi spell, perché il token druida è in grado di swarmare board con le spell. È un deck in base, che riesce a vincere grazie ai buff, grazie alla chiusura con Savage Roar, con tutte carte che sono spell. Ha pochi servitori il token. E anche nel caso in cui voi scartate un servitore, in una classe come il token, alla fine non è un problema. L'unico problema può essere se scartate il 7-10, quello che vi dà più 1-1 ai Trent. L'unico problema può essere se scartate l'8-8 quassalto. Però, raga, se scartate l'1-1 che vi evoca un 2-2, se scartate il 2-3 che vi dà una spell, sì, sono carte forti. Però è molto più forte pescare spell. Molto più forte. E il token druid è una classe che ha più del 70% di carte spell. E quindi a me piace molto l'idea di mettere questa carta nel token druid. È vero, c'è una tempo loss. Un token druid vorrebbe praticamente mettere board tutti i turni. Tutti i turni. Però è anche vero che il token druid è una classe che non ha troppi card draw. Ha la spell a 5, quella che si debuffa per ogni Trent, che fa pescare due carte. Ma giocando token druid io mi sono accorto che effettivamente non basta questo card draw. Serve un card draw per il token druid e la fortuna fungina, magari messa in monocopia, potrebbe essere la carta perfetta che può generare ancora più consistenza in un mazzo che non ce ne ha tantissima. Il token druid è forte quando parte in curva. Se il token druid non mette pressione un turno, rischia di perdere il game. Ahimè è così. Poi per carità a comeback, eh, per esempio, fa la spell a 4 più solo deforest, e se l'avversario non c'è una soluzione, poi ti chiude con save girone. Però ci sta, ci sta. Il token druid è l'unica classe in cui vedo quella spell magari giocabile di main, no? Bisogna vedere però se al token druid daranno altre carte, anche se il token druid è già buono così, eh, perché comunque tutto quello che gli serve per vincere il token druid. Arcispora, Mishfin. Questa è la prima carta prime che andiamo a vedere, raga. Sono molto contento, ripeto ancora, delle carte prime, ripetiamo. Non c'è scritto, è una meccanica prime. Significa semplicemente che ci saranno dei servitori leggendari per ogni classe. Ogni classe, e questa è già una cosa figa, no? Perché finalmente ogni classe può dire, cazzo, è come è successo per i DK. Ogni classe avrà un suo servitore con meccanica prime che è chiaramente studiata in base alla natura di quella classe, che è normale che questa è per il druid. Non so se ne abbiamo viste altre. Sì, per il warrior, per esempio, non l'abbiamo vista per il warrior. È una meccanica prime che si basa sull'ottenere armor. Per il druid è una meccanica che si basa sul generare una carta che ha un choose one. E andate quindi voi dicendo, diciamo, quale potrebbe essere per le altre. Anche se per lo shaman è un pochino diversa. E per il rogue, regà, non ve lo voglio manco di. Per il rogue potrebbe addirittura aprire i confini per un nuovo tipo di mazzo. Rantolo di morte, mette un altro nel suo mazzo. Questa si presenza come una 3-mana 3-4, quindi una buona carta dalle staff, perché questa carta non ha niente. A taunt! Cazzo dico, a taunt! Questa è una 3-mana 3-4 con taunt, regà. Una 3-mana 3-4 con taunt è una carta molto forte per non essere nemmeno poi la carta per la quale... Cioè, voi non giocate questa carta perché è una 3-mana 3-4 con taunt. Voi giocate questa carta per avere poi possibilità di pescare la suprema. Però 3-mana 3-4 con taunt è una carta molto forte. Non so se vi ricordate la scimmia che si giocava nel tempo warrior, no? La scimmia che mi pare che era pure in pirata. Era una 3-mana 3-4 con taunt fortissima. Perché? Perché è una 3-mana 3-4 e c'ha pure taunt. Le ha nevi di più 0-5 e più c'ha taunt. E quindi fondamentalmente giocate una buona carta dalle staff e dal fatto che abbiamo provocazione molto forte. Ovviamente poi, qua, nel senso che dovete capire che mazzo lo state giocando. Giocare 10-mana per una carta è sempre difficile. Una carta che costa 10-mana tendenzialmente è una carta che deve dare un impatto al turno molto forte. Che ne so. Book of York Sharon. Potrebbe anche non darlo. Però se lo fa è una carta che vi permette di cambeccare. Calegos è una carta 10-mana che vi permette poi di giocare carte a costo 0. Questa qui, per essere una carta di questo tipo, quindi che dà un turno forte, quindi che va a giustificare i 10 cristalli di mana, è una carta che avendo un choose one probabilmente deve essere giocata in un mazzo che permette di attivare entrambi gli effetti. Quindi di evocare un gigante fungino 9-9 con provocazione o con assalto. La carta provocazione, per carità. Evochi un 9-9 che c'ha provocazione e assalto. Sto valutando la carta con voi perché non l'ho mai giocata. 10-mana, evocare 2-9-9 con taunt è buono? Sì, dovevo fare come cosa, come sia, Matt Matti. Questa carta se nella giochi con choose one è un 9-9 con taunt, ok? Che evoca un 9-9 con taunt o un 9-9 con assalto. La domanda è, va bene anche se tu non accetti il choose one? Perché se tu lo giochi in un mazzo big, ok? Tu devi per forza utilizzare il choose one e non poterli utilizzare entrambi. Perché è difficile che il mazzo big abbia la quest. Quindi la domanda è, è buono giocare un 10-10 e un 10-mana che evoca 2-9-9 con taunt? Sì. Il problema è che se giochi contro il rogue e ti fa flacca, ti spacca il culo. Però tendenzialmente 10-mana 2-9-9 con taunt è forte. Poi, per carità, è normale che questa cosa è punibile da un sacco di carte. Il warrior può giocare il super collider e il rogue. Però, se facciamo questo discorso per tutte le carte, vuol dire che tutte le carte hanno un counter. E quindi questa cosa è sbagliata. 10-mana 2-9-9 con taunt è una carta piuttosto fine, secondo me. In un mazzo big, in cui probabilmente questa cosa non costerà mai 10-mana, cioè nel senso sì che costa 10-mana, ma in un mazzo big è un mazzo che non solo è in grado di rampare, magari riesce pure a città un po' di mana, secondo me diventa ancora più forte, perché non sono i 10-mana che tu giocheresti in un mazzo canonico. Sono 10-mana che tu avrai, mentre l'avversario magari ne avrà 7-8 perché avrai rampato. Quindi credo che la carta ha tutte le possibilità e potenzialità per essere presente in un mazzo big. Collider ruota. Vabbè, sì, ho fatto il collider come esempio, magari ci saranno altre soluzioni, no? Che brutto che ruota il collider, cazzo. Ora che si iniziava a vedere un warrior control come vecchi tempi, gli tolgono il super collider che era praticamente un'arma fortissima. Mi ricordo che il super collider era praticamente il motivo di vittoria contro, che ne so, il Conjured Mage. Il super collider e il Conjured Mage purtroppo non riusciva a manifestare la stessa potenza. Avrà altre rimozioni il warrior, ovviamente, no? Questa è la meccanica prime, una meccanica che mi lascia piuttosto hypado, nel senso una meccanica che mi piace tantissimo. Io morirei dalla voglia di dirvi le altre carte con prime, purtroppo non lo posso fare, però, insomma, saranno tutte carte di questo tipo. Quindi carte che è la prima fase, ma poi mi piace proprio il fatto che ci sia... Lo vedete? Cioè, è bello perché hanno fatto una sorta di evoluzione dei Pokémon, no? O dice evoluzione dei Digimon? Come quella di Lore. Come quella di Lore, infatti ho pensato subito a Lore, perché è praticamente la copia evoluta della precedente, anche all'impatto, diciamo, grafico. È una cosa che è figa, dai. E comunque è anche bello, vede molte volte queste cose. Cioè, le carte fanno parte di un giochino in cui non crea delirio e arte. Eeeh, giocheri sono altri...